buongiorno ragazze buongiorno a tutti e a tutti nuovo video blog barra chiacchiere come state spero che stiate bene un nuovo inizio di giornata ovviamente mi sono svegliata un po' tardi ma vabbè intorno alle otto qualche cosa e niente adesso vorrei fare il letto con voi perché il resto è già tutto fatto fare il letto per spolverare e basta e poi ci salutiamo per fare un altro video di trucco questa volta ok e niente a dopo con questa faccia del cavolo che ho vabbè nulla a posto dai ragazze e ragazzi se questo video può piacere mettete un like di supporto un commento e attivate la campanella se vi iscrivete ciao a dopo ci vedete come il letto giuro allora il letto è questo già tutto bello sfatto e coso per un tanto lo faccio adesso questo mio letto questo è tutta la situazione che c'è attorno a me e qua devo spolverare di qui e di qui quindi stavolta non si non si parla bisogna spolverare per forza è nulla quindi adesso spolvero e ci vediamo dopo dai grazie a tutti Grazie. 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 Allora ragazzi vorrei mettere a spolverare, scusate se non ho parlato fino a tutto il resto del video, però lo può stare zitto, ma va bene. Allora, dunque, ora qua devo togliere tutto qua. Che palle, già lo so, una palla. Però se non trovo tutto qua non si riesce a spolverare bene. Ok, tutto zotto anche come sempre. Ok. Noi. 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 Ok. 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 allora vedete quanto è zozzo vediamo un pochettino ok bene allora la monta di qui cosa c'è rispetto anche qua voi non vedete però tutto spolverato sarebbe una finta spolverata non ho voglia ragazzi non so perché ok faccio il comodino e torno ed eccomi qua ragazzi miei dunque stamattina è stata un po' allucinante riprendermi dal sonno perché ieri ho rifatto il nuovo tardi perché guardami Galvia di Arco non so se l'avete visto voi se mi avete seguito su tutti gli altri social ho guardato tutta la serie volevo andare a letto ma alla fine poi non ce l'ho fatta sono andata a guardare Galvia di Arco però la serie di se potessi dirti addio se potessi dirti addio bellissima 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 ha avuto un bellissimo lieto fine mi è piaciuto molto e mi è piaciuto molto 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 è troppo bello non faccio spoiler perché presumo che l'avete già visto quindi va benissimo così e nulla quindi ho fatto tardi e stamattina eccomi qua a fare altri video per voi niente oddio questo collo come me lo sto mettendo boh vabbè niente aspettate un attimo che vi è giusto così sì aspettate non vorrei che cadete ok vi ci stiamo meglio sì il letto è bello fatto vedete che il letto è fatto sì e niente quindi ragazzi miei e ragazzi miei ho fatto un bel caffè stamattina perché ho necessitato un caffè vabbè tutti avevano bisogno di un caffè la mattina per ristorarsi un po' e risvegliarsi un po' dal sonno ma vabbè e già no sto ridendo perché era troppo divertente quella serie lì quella film di Gabriel perché c'era anche un'attratrice adesso non mi ricordo come si chiama boh non lo so oddio sono tutta salvolata che a me succede già e niente sì dopo questo video farò un altro video dove mi trucco perché oggi è la mia bella pochettina bella pronta e con questa pochetta bella pronta che è un po' tozzosa però vabbè dettagli farò sì farò un video un video make up un getter di vittimi come si vuol dire qua su youtube già niente e che cosa è soffi sogno niente ho sognato poco e nulla non mi ricordo manco che cacchio ho sognato stamattina stamattina stanotte non mi ricordo nulla 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 ma vabbè dettagli niente ok ragazze io faccio tutto breve mantenso questo video e ci vediamo al prossimo video al prossimo giro perché adesso lo voglio caricare questo video e e niente a dopo al prossimo video non so manco se lo faccio il getter di vittimi non lo so vediamo e nulla scusate me lo soffi di naso e di avere nulla ok a posto scusate guarda lo spicchietto niente a dopo zombie apocalypse